Oggi in Prefettura a Chieti si parla di dieta mediterranea. In che termini? Lo chiediamo proprio a Nicola D'Auria dell'Accademia Italiana della Cucina, sezione Teatina. Sì, oggi affrontiamo, ringrazio principalmente l'Associazione Club per l'UNESCO che in partnership siamo riusciti a organizzare questo bellissimo evento coinvolgente niente di meno che il vicepresidente internazionale, il professor Petrillo, su un tema importante che preoccupa comunque la nostra Accademia, che è comunque da sempre vicina a tutelare il territorio, non solo il territorio, ma alla valorizzazione del cibo e quindi la sostenibilità del prodotto alimentare. Oggi è un intervento bellissimo perché chiaramente siamo riusciti ad avere questa prestigiosa presenza e per noi è un momento d'orgoglio, soprattutto perché svolgiamo questa attività, ringrazio il prefetto, nel Palazzo del Governo. Mimmo D'Alessio dell'Accademia Italiana della Cucina si parla sempre di questa dieta mediterranea, però che cosa bisogna sapere, che cosa bisogna far sapere? Beh, intanto diciamo che dieta è un termine ormai usato anche in modo sbagliato perché quando si pensa alla dieta si pensa a un qualcosa, a una privazione. In realtà la dieta mediterranea è un regime di vita, uno stile. Come dice la dieta, viene dal greco diaita, che significa stile di vita, che comporta non soltanto l'alimentazione, ma anche il lavoro, il riposo, il divertimento, la convivialità. Ecco, dieta mediterranea sta a indicare un modo di mangiare diverso, sicuramente non in macchina come si fa con il fast food, ma un modo al quale noi siamo abituati e fa parte della nostra storia, della nostra identità, della nostra cultura. Quando parliamo di dieta mediterranea ovviamente ci riferiamo a un modo di mangiare, soprattutto con cibi di una semplicità e genuinità come i cereali, come naturalmente l'olio d'oliva che è il condimento di tutto. Quindi una cucina semplice ma genuina. Pesce, poca carne, formaggi e soprattutto prodotti della stagionalità.